a se vado come interagisce guardate guardare il tachimetro di velocità di distanza 80 89 metri 69 metri vedete interagisce più rumore faccio più quello sta avvenendo lo vedete quel pallino quel piccolo figlio di puttana salire cazzo ce l'avevo fatto avanti e non me ne sono neanche accorto meno male che poi va stanno ma scamato Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.